benvenuti su gimme wine degustiamo grenache di chevrotin partendo dal colore e quindi con la nostra degustazione dove appunto abbiamo un vino da un bel colore rosa molto acceso e un bel colore vivace al naso al naso ci sono bellissimi sentori anche di pompelmo rosa che appunto richiamo il colore quindi sentori agrumati ma anche di fiori piccoli frutti piccoli quindi un bouquet interessante in bocca troviamo appunto la stessa particolarità quindi questi fiori questi frutti piccoli questa rosa è questa avvolgenza che poi condosce ad un equilibrio finale e ad un abbinamento con piatti a base di pesce anche pesce crudo oppure formaggi